Il principe Harry e Meghan Markle stanno valutando se partecipare e portare Archie Lilibet all'evento della statua della principessa Diana a Kensington Palace alla fine di questo mese, è stato riferito secondo quanto riportato, il principe Harry e Meghan Markle potrebbero fare un ritorno a sorpresa nel Regno Unito per partecipare a una festa per celebrare la principessa Diana. Si dice che i Sussex stiano valutando se andare all'evento che si terrà più tardi a Kensington Palace questo mese. Harry, 37 anni, è tornato nel Regno Unito a luglio per assistere all'inaugurazione della statua con suo fratello in onore della loro defunta madre. All'inaugurazione erano presenti anche membri della famiglia Spencer, tra cui il fratello di Diana Earl Spencer e le sorelle Lady Sarah M. Cicorquodale e Lady Jane Fellos, ma un ricevimento è stato accantonato a causa delle restrizioni di Covid-19. Da allora, le restrizioni di viaggio dagli Stati Uniti sono state revocate in modo che i Sussex non siano tenuti a mettere in quarantena all'arrivo, una fonte ha detto a The Sun, nessuno sa quale sia la decisione di Harry, ma ci sono voci secondo cui potrebbe venire con Meghan e i loro due figli. Ingrid Seward, caporedattore di Majesty Magazine, ha detto del ricevimento, avresti pensato che sarebbe stato sicuramente qualcosa a cui Harry avrebbe davvero voluto essere. Non riesco a immaginare niente di meno importante per lui perché vorrebbe rispettare sua madre. Il palazzo non ha commentato le voci ma si ritiene che Harry volesse tornare per la celebrazione, all'inaugurazione della statua a luglio, si pensava che i fratelli avessero raggiunto un tacito accordo per lasciarsi alle spalle la loro faida e fare il giorno della loro defunta madre. Il potenziale ritorno arriva 16 mesi dopo che i Sussex si sono trasferiti in California e mentre Harry lavora a un libro di memorie che dovrebbe essere pubblicato alla fine del prossimo anno. Nel libro, Harry condividerà le sue avventure, perdite e lezioni di vita, ha detto l'editore Penguin Random House. Grazie a tutti.